ecco siamo qui in playa del reducto ad arresife questa è la spiaggia di fronte abbiamo il grande hotel arresife la struttura molto alta che si vede da molti punti dell'isola e questa è la spiaggia poi qui di dietro abbiamo l'intercambio d'or per i bus e qua c'è un piccolo parco pubblico ecco vediamo proprio qui di fronte l'intercambio d'or del playa del reducto che è la stazioncina secondaria dei bus che partono per i vari punti dell'isola ecco che si trova proprio di fronte a questo piccolo giardino botanico ecco qui in questa mappa vediamo le varie località dell'isola ecco qui inizia i buoni Questo è il lungomare che poi porta verso il centro di Resife dall'intercambiador. Per il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ecco qui siamo quasi arrivati in fondo, vediamo il Grand Hotel proprio qui di fronte, ci sono alcune palme, ecco qui siamo proprio di fronte a un altro bello albergo che è il Lancelot, ecco che vediamo proprio qui di fronte. Grazie Grazie Grazie